Ronaldo contro Paolo Opens, fiscale arbitro, parte il tiro di Ronaldo, la palla in rete, il raddoppio della Juventus, Cristiano Ronaldo, come sempre, perfetto dal dischetto, 10 minuti su un cronometro, qui all'Olimpico, Roma 0, Juventus 2. Pompà dentro l'Ingsteiner, l'Ingsteiner palla dentro, attenzione Osvaldo, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, con Paolo, Daniel Osvaldo, al minuto numero 49, Roma 0, Juventus 1, proprio lui. Va, Pereira, Pereira, dentro Di Bala, la Juventus riapre la partita con Paolo Di Bala. Tevez, parte il tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, a minuto numero 19, il secondo tempo, con Carlos Tevez, un gol meraviglioso. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Pallone in mezzo per il colpo in testa della rete! Di Chiellini, per il palaggio della Juventus! Di Bala, attraversone in mezzo sul palo lungo, la deviazione, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al minuto numero 3, il gol di De Miral, la prima rete del giocatore turco. Di Bala, attraversone in mezzo. Di Bala, attraversone in mezzo. Di Bala, attraversone in mezzo. Di Bala, attraversone in mezzo sul palo lungo, la prima rete del giocatore turco. Grazie a tutti